Partiti! All'inizio della curva, in vantaggio, Dominic Way, davanti a Winter Storm, seguono Nordic Walker, Armentarola, Eventful Meet, Bright Future, Dogma Noir, Mujay Do Caffeina, poco prima dell'ingresso, in vantaggio, Dominic Way, davanti a Nordic Walker, Armentarola e Winter Storm. I cavalli entrano in dirittura. Con Nordic Walker, in leggero vantaggio, attaccato all'esterno da Swan, Armentarola, Mujay Do Caffeina, Dogma Noir, in leggero vantaggio, Nordic Walker, attaccato all'esterno da Mujay Do Caffeina, passa Mujay Do Caffeina, attaccato all'esterno da Dogma Noir, lungo la corda, Nordic Walker, seguono Enjoy Te Sane, Armentarola.